Ha chiamato l'avvocato De Rossi e vuole sapere se mercoledì tu sei disponibile per sostituirlo in una causa a cui lui tiene particolarmente, però è fuori Roma e ho controllato l'agenda. È uno spettacolo molto particolare sui giovani, sui giovani d'oggi? In realtà forse non riguarda soltanto i giovani d'oggi, sicuramente però il tema è particolarmente attuale, forse sentito dalla generazione dei giovani, però è il lavoro, quindi riguarda obiettivamente tutti. Senti Paride, ma di quella storia che ci dicevi, di quelle voci che giravano, ti hanno detto niente poi? È tutto confermato. Come è confermato? Sì, un amico di un amico mio che lavora su all'ufficio mi ha detto che è tutto confermato. Il spettacolo è nato su una riflessione di Clara, la regista, che si interrogava su questa questione del lavoro, sul fatto che in qualche modo ci fosse questo tabù per cui il lavoro non è toccabile, le persone possono parlare di tutto meno che di lavoro, il lavoro è qualcosa di sacrosanto, qualcosa da difendere, ma non si è mai analizzato di fatto quanto il lavoro possa essere frustrante nella vita delle persone, quanto possa essere faticoso anche fisicamente, anche mentalmente, quante cose noi sacrifichiamo in virtù della nostra vita lavorativa. Sì, più o meno l'età varia tra i 24 e i 28 anni, quindi siamo 27, ok? E sì, diciamo, lavoriamo insieme anche da diversi anni, siamo cresciuti insieme. Appunto ci conosciamo da molto tempo, prima che come attori, come persone e come amici, e ci è venuta spontanea, insomma, costituirci per modo da dire come un collettivo invece che, cioè, per diminuire tra di noi delle divisioni e per essere appunto, come dici, al termine stesso un collettivo. Vuoi sapere proprio il titolo del paragrafo? Oh, guarda che andavo bene a matematica, eh! Oh, bene, va bene, allora, questa parte si intitola tecniche di stima per un parametro in un sistema cointegrato. Non lo so, affasso a biretto, dai! Non è una cosa seria, dai, però, allora, giovedì non posso, però, venite! Allora, c'è qualcuno di noi che è laureato, qualcuno di noi, Clara, che è la regista, insegna e lavora, quindi, diciamo, a tempo pieno ed è il motivo per cui quest'oggi non è qui e non sta facendo questa intervista e, insomma, studia, alcuni di noi studiano, alcuni di noi sono laureati, stiamo iniziando a facciarci al mondo del lavoro proprio facendo questo, gli attori, quindi io mi sentirei di dire che sì, insomma. Almeno quest'anno e nel prossimo futuro questo è il nostro, il nostro impiego. Bonelli, una standard per sette notti con un check-out martedì mattina, giusto? Mi fornisci un documento per cortesia? Consigli ai vostri coetanei. Il consiglio è provare a fare quello che si ha voglia di fare, di non farsi catturare da un destino segnato e di riflettere su quello che è la quotidianità, su quella che è la loro vita, la loro esistenza. Grazie. 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 Grazie.